L'impegno professionale di Mario Francese nella celebrazione del 42esimo anniversario. La paura di questo tempo sia alimento di quello stesso coraggio che mostrò Mario Francese svolgendo il suo mestiere. Così il segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente, nel ricordo del giornalista siracusano ucciso 42 anni fa a Palermo, condiviso questa mattina davanti alla targa che lo ricorda nell'area del parco archeologico. Alla presenza del prefetto di Siracusa, Giuseppe Scaduto, del sindaco Francesco Italia, del questore Gabriella Ioppolo, dei comandanti della Guardia di Finanza, Capitaneria Guardia Costiera, Polizia Stradale, rispettivamente Luca De Simone, Luigi Daniello e Antonio Capodigasa, del comandante del reparto operativo dei carabinieri Marco Piras e del comandante compagnia Simona Clemente, i giornalisti siracusani si sono ritrovati come ogni anno per ricordare francese. Mario Francese viene definito un giusto, ha continuato Dente, un esempio di giornalismo che resta attuale e che molti dovrebbero rileggere. La grande attenzione che le scuole della città hanno posto verso questa figura dimostra che la memoria è l'infa vitale per le nuove generazioni, soprattutto per questa categoria. A rappresentare la categoria Santo Gallo, consigliere dell'Ordine regionale dei giornalisti di Sicilia, Massimo Ciccarello, fiduciario della sezione siracusana del gruppo cronisti siciliani di Asso Stampa Unci, Francesco Di Parente, presidente regionale del gruppo Uffici Stampa e Salvo Di Salvo, presidente provinciale dell'Unione giornalista Stampa Cattolica. L'impegno professionale di Mario Francese e del figlio Giuseppe ha sottolineato il prefetto e dimostra che lo stesso, quando vissuto pienamente, diventa impegno civile. È un esempio vivo più che mai in questo periodo e non è rivolto soltanto ai giornalisti. È un modello di impegno concreto che oggi serve a dare coraggio e forza per superare questo difficile momento e fare ripartire il Paese. La giornata si è conclusa con il webinar organizzato in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti regionali di Asso Stampa a Sicilia, due ore accreditate anche come corso di formazione, trascorse con gli interventi di Giulio Francese, presidente dell'Ordine, Roberto Ginex, segretario regionale di Asso Stampa, Alberto Cicero, presidente del Consiglio regionale di Asso Stampa, Giacomo Carpinteri, responsabile presidio Libera Mario Francese, Andrea Campanelli, blog La Voce del Gargallo, Marcello Sorgi, editorialista La Stampa. L'incontro è stato seguito online da tre classi del liceo Gargallo e da una del liceo Polivalente Quintiliano di Siracusa.